Siamo oggi qui a Modena per inaugurare il nostro nuovo punto vendita che dirò al farmacista. Dunque dottoressa, io mi rivolgo a lei e volevo sapere quali sono i suoi propositi e soprattutto cosa si aspetta da questa nuova avventura. Da questa nuova avventura mi aspetto che sia vero il mio sogno, quello di trovare un giusto colluvio di competenze tra la mia attività, quella di nutrizionista e quella delle farmaciste che lavoreranno insieme a me in questo progetto di collaborazione e quindi da questa nuova apertura mi aspetto che il mio paziente, dopo la mia consulenza, possa trovare un appoggio professionale al di là di questa porta e quindi devo continuare a trovare un sostegno, continuare a trovare professionalità, competenza e conoscenza soprattutto scientifica di tutto ciò che riguarda la salute, il benessere e la prevenzione. Sono anche i valori che ci caratterizzano insomma. Invece mi rivolgo a lei, salve. Buonasera. Io volevo invece sapere per quale motivo avete deciso di unirvi alla nostra grande famiglia? Allora, la nostra scelta del marchio Chiedilor Farmacista ci ha convinto principalmente perché in un momento come questo in cui credo che la competenza, la professionalità debba essere una cosa fondamentale in qualsiasi campo, già il claim Chiedilor Farmacista, cioè affidati a qualcuno che ha una competenza superiore alla tua. Crediamo che sia la soluzione sia a problemi legati alla salute che a qualsiasi altro. Ovviamente le competenze di mia moglie come nutrizionista, già affermate nel tempo, abbiamo creduto che possano essere sinergiche con questo vostro progetto che abbiamo fatto nostro. Vi ringrazio tantissimo e vi auguro un bir ousuriamo alla prossima, già chiediamo il come economics potrebbe essere pot burbato di Computing. Due altre��stellen, seguita combustibile ed elemento, Grazie a tutti.